Il portiere della Polonia e dell'Arsenal, Wojciech Secesny, crede che la qualificazione sia ancora portata di mano dei padroni di casa, anche se serve una vittoria contro la Repubblica Ceca per ottenere i punti della sicurezza. Ci crediamo, è tutto nelle nostre mani, abbiamo la qualità e la determinazione per andare avanti. Gli uomini di Smuda sono terzi in classifica nel girone, ma una vittoria, come detto, li proietterebbe ai quarti. Il rimpiazzo di Secesny, Premislav-Titon, si è dimostrato all'altezza del portiere dell'Arsenal, il quale non sa se giocherà contro i cechi. Decide il mister, spero di essere preferito a Titon, ma dipende dal mister. La sfida dell'Est va dunque in scena a Reslav, sabato prossimo.